E questa è la prima estate dopo il lockdown, la prima estate alla Reggia di Caserta dopo la pandemia. Sono cambiate le regole e naturalmente i comportamenti. Allora, cosa ci aspetta? Lo abbiamo chiesto alla direttrice del Monumento Vamitelliano, Tiziana Maffei. La Reggia di Caserta, come molti musei in tutto il mondo, se pensiamo che solo ieri è aperto il Louvre, è in una fase di attento monitoraggio di questa apertura. Quindi al di là delle iniziative come la rassegnata della Re e come posso dire un'attività continua fondante forse di valorizzazione di quello che la Reggia di Caserta sta facendo adesso in termini di restauro, di studio e manutenzione del parco, credo che questo sia l'anno dell'attesa e del controllo. Ogni passo deve essere fatto con cautela perché l'emergenza sanitaria è stato qualcosa che ha colpito gravemente la realtà culturale e economica di questo Paese e non solo. E quindi ogni cosa va fatta con il giusto discernimento e consapevolezza. I numerosi appuntamenti sono numerosi appuntamenti che devono confrontarsi con una realtà di fruizione rallentata. Io credo che quest'anno sia l'anno dell'Italia per gli italiani. Quindi che la Reggia di Caserta sia il centro di un'attenzione in questo Paese che forse ancora non ha avuto e che meriterebbe tutto per la qualità proprio dello spazio e di questa visione incredibile che questo territorio ha la fortuna di avere.